L'Italia ha parlato, questo referendum è stato respinto, è un risultato netto, chiaro, superiore alle aspettative e alle previsioni di tutti i commentatori e di tutti gli opinionisti. Assisteremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, probabilmente alla solita triste esibizione di tutti i politici vecchio stile che dichiarano di aver vinto anche quando perdono. In politica bisogna saper perdere, ci sono dei messaggi molto chiari che arrivano dalla gente, dai cittadini e vanno recepiti come tali. In questo referendum ci sono dei vincitori e ci sono degli sconfitti. Voglio essere molto chiaro, il Governo non si annovera nella categoria dei vincitori, ma crede che i vincitori siano gli operai, gli ingegneri, i lavoratori, che domani mattina torneranno nei loro posti di lavoro, nelle loro piattaforme, nelle loro aziende, consapevoli di avere un futuro e non soltanto un passato. Levo simbolicamente i calici con loro, con quelle 11 mila persone che avrebbero rischiato il posto di lavoro e per i quali abbiamo lavorato e per i quali abbiamo proposto l'astensione ai cittadini. E con la stessa franchezza dico che gli sconfitti non sono i cittadini che sono andati a votare. Chi vota non perde mai. Massimo rispetto per quelle donne e quegli uomini comunque abbiano votati. Ma gli sconfitti ci sono, hanno dei nomi, dei cognomi. Sono quei pochi, pochissimi consiglieri regionali e qualche Presidente di Regione che ha voluto cavalcare a tutti i costi un referendum per esigenze personali, particolari, politiche. Un referendum che si poteva evitare, abbiamo cercato di evitare per risparmiare oltre 300 milioni di euro degli italiani, ma che è stato voluto tenacemente e pervicacemente non per discutere di energia, ma per esigenze di conta interna da parte di qualcuno. Voglio essere molto sincero, franco. Ho molto sofferto la scelta di non andare a votare. Non perché vi fossero dei dubbi costituzionali, basta leggere la Costituzione per sapere che l'Istituto del Quorum, in quanto tale, permette di esprimere un dissenso dichiarato anche attraverso la non partecipazione al voto. Dunque si trattava di un'opzione perfettamente legittima sotto il profilo giuridico, politico e costituzionale. Ma ho ricevuto una e-mail da parte di un ragazzo che ha compiuto 18 anni nelle settimane scorse, un ragazzo classe 98, che mi chiedeva un consiglio, e io alla fine a lui non gliel'ho dato, che mi chiedeva un consiglio sull'andare a votare o meno, perché aveva l'emozione, provava il brivido di votare per la prima volta. Ho fatto fatica, dunque, a spiegare le ragioni del non voto. L'ho sofferto personalmente, ma l'abrogazione di questa norma, strumentalmente presentata come grande questione energetica, avrebbe portato a 11.000 licenziamenti. Credo che, indipendentemente dai suoi stati d'animo, il Presidente del Consiglio debba stare là dove si rischiano 11.000 posti di lavoro. Anzi, più correttamente, là dove si rischia anche un solo posto di lavoro. È per questo che oggi, mentre brindiamo con le donne e gli uomini di Ravenna, non a caso una delle città con il più basso livello di affluenza, pur essendo storicamente una capitale del voto e della partecipazione, penso alle tante vicende che abbiamo cercato di affrontare e di risolvere. Penso a Electrolux, penso a Apple, penso a Terni, penso a Irisbus in Irpinia e potrei continuare a lungo. Ma il mio e il nostro pensiero vorrei che andasse in queste ore alle tanti crisi aziendali aperte, a Almaviva, a Gepin, a Meridiana, a Italcementi, a O.M. Carrelli e, naturalmente, a Ilva, la madre di tutte le crisi in questo momento in corso in Italia per responsabilità clamorose della classe politica del passato. Ho scelto di non votare dunque perché questo era lo strumento più semplice offertomi dalla Costituzione per non mettere in crisi un intero settore. Ma voglio dire a quelli che hanno votato sì, a quelli che hanno votato no, che a quelli che hanno votato sì, che tutti coloro i quali hanno nel cuore un modello diverso di politiche energetiche per il nostro Paese provano la stessa esigenza, la stessa ansia che proviamo anche noi. Non dobbiamo piangerci addosso, l'Italia non è all'anno zero. Siamo leader nel settore delle rinnovabili rispetto ai tedeschi, rispetto ai francesi, rispetto agli inglesi. Abbiamo sul solare delle autentiche eccellenze. Possiamo migliorare sul vento, in particolar modo con le nuove tecnologie. Abbiamo un settore idrico che ci viene invidiato in tutto il mondo. Saremo a New York giovedì prossimo per siglare, insieme agli altri capi di Stato e di Governo, un accordo impegnativo perché noi vogliamo tutti insieme, prendendoci per mano, dopo la divisione del referendum, fare dell'Italia il Paese più verde d'Europa. Ma perché questo sia possibile dobbiamo partire dal non sprecare l'energia che già abbiamo. Il passaggio alle energie rinnovabili non si può fare da qui a domani mattina. È buonsenso ridirselo. E su questo, lasciatemi dire, andando verso la conclusione, che a qualche regione che ci ha fatto la morale sulla bellezza del mare, diciamo con chiarezza che è falso, è ipocrita, difendere il mare o dire di farlo mettendo in difficoltà qualche piattaforma che produce gas naturale, che estrae gas naturale, quando per troppi anni le regioni si sono disinteressate del primo problema del nostro mare e non hanno aiutato a realizzare quei depuratori che sono condizioni necessarie perché finalmente tutto il Paese, non soltanto una parte, abbia il mare pulito. Da sindaco so la fatica che si è fatto per avere un collettore, non il depuratore, un collettore che portasse il sistema delle fognature ad essere collegato interamente al depuratore. E quanto sono stato fiero quando finalmente questo depuratore è stato inaugurato, questo collettore è stato collaudato, ma contemporaneamente come si fa a parlare di mare quando troppe regioni ancora non utilizzano i soldi europei che ci sono, che sono pronti per poter pulire le nostre meravigliose acque? Ecco perché è fondamentale che il dibattito sull'ambiente non sia limitato a presunti esperti da talk show, ma che parlano tanto nelle trasmissioni televisive, ma poi si scordano di promuovere la differenziata. È inutile discutere di turismo marino e balneare se non siamo in condizioni di dare delle strutture adeguate dalle infrastrutture di alberghi. Ed è inutile buttare via oltre 300 milioni di euro. Non avremmo potuto accorpare con le amministrative neanche se avessimo volute, perché una legge ce lo impedisce. È stato inutile buttare via 300 milioni di euro quando alle regioni viene chiesto soprattutto di ridurre le liste d'attesa sulla sanità, quando con oltre 300 milioni di euro avremmo potuto acquistare 350 nuove carrozze ferroviarie per il trasporto pendolare. Noi siamo molto fieri del sistema delle frecce, oltre 50 milioni di viaggi tutti gli anni, ma ci sono 550 milioni di viaggi tutti gli anni che sono i viaggi dei nostri pendolari e che hanno diritto a più attenzione da parte del sistema regionale. Credo che se vogliamo essere seri oggi è arrivato il momento di prendersi per mano e di scommettere su un modello di efficientamento energetico diverso, di riduzione degli sprechi, di valorizzazione dell'edilizia sostenibile. Questo è ciò che noi faremo. A coloro i quali hanno votato sì, a coloro i quali hanno votato no, io dico che saremo in prima linea a livello europeo e internazionale per fare dell'Italia un Paese che non spreca energie, che investe sulle colonnine elettriche, passando dalle attuali 1.500 a oltre 20.000, come ci siamo impegnati a fare. Basta con le polemiche. L'Italia torni a fare l'Italia, un grande Paese che non può permettersi l'odio sconsiderato che in alcuni momenti di questa campagna elettorale è emersa. L'Italia degli ingegneri, l'Italia degli innovatori ha nella tecnologia il principale asset per far crescere le nostre disponibilità energetiche. I nostri ingegneri devono essere messi nelle condizioni di fare quello che fanno in tutto il mondo essere i punti di riferimento. Quanto all'aspetto politico, e chiudo su questo. Per settimane autorevoli ospiti si sono chiusi nei talk show, hanno preso in ostaggio i social network, hanno monopolizzato l'attenzione della classe politica. Gli addetti ai lavori, i grandi esperti hanno preconizzato spallate, hanno teorizzato crolli, hanno immaginato chissà quali sconvolgimenti. Alla fine, una parte della classe dirigente di questo Paese si dimostra una volta di più totalmente autoreferente, autoreferenziata. Vivono su Twitter o su Facebook, ma l'Italia è molto più grande di Twitter e di Facebook. L'Italia è molto più grande di talk show che costantemente riferiscono il racconto di addetti ai lavori e non si rendono conto che là, fuori dalle loro telecamere, c'è un Paese che chiede concretezza, che chiede solidità e che è molto più avanti di quello che si pensi, molto più in grado di comprendere se un quesito referendario ha senso o è soltanto un strumentale tentativo di creare polemica. Non paga. Cercare di essere demagogici. Questo è il messaggio di questo referendum. Ci hanno detto che con noi stava la parte peggiore del Paese. Io credo che non ci sia una parte peggiore del Paese. Tutti gli italiani, quelli che si sono astenuti, quelli che hanno votato sì, quelli che hanno votato no, hanno il diritto di essere portati fino alle prossime elezioni del 2018 senza le consuete polemiche e scaramucce dei politici, ma essere messi in condizioni di operare finalmente una scommessa perché questo Paese vinca le difficoltà occupazionali che ha, perché questo Paese possa tirare fuori la parte migliore che ha nel proprio cuore e che finalmente questo Paese sia messo in condizioni di superare la guerra civile e ideologica che continua costantemente a emergere dai soliti noti. Io vorrei fare un appello alle italiane e gli italiani, concludendo. Comunque abbiate votato. Mettiamo la parola fine alle polemiche. Ripartiamo tutti insieme, sapendo che nei prossimi due anni c'è molto da fare, perché l'Italia, questa meraviglia, questo scrigno, questo gioiello di Paese, torni a essere un punto di riferimento unico nel mondo. Poi, quando ci saranno le elezioni politiche, ciascuno voterà per chi crede. Ma fino a quel momento rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci tutti insieme a dare una mano perché l'Italia torni a fare l'Italia, anche nel settore delle energie rinnovabili, anche nel settore dell'innovazione, anche nel settore della qualità della vita, ma lo faccia senza utilizzare tutte le occasioni per alimentare la vecchia tiritera della battaglia ideologica e politica. È arrivato il momento di mettersi tutti insieme a lavorare perché il nostro Paese torni ad ospitare un futuro, quel futuro che ci verrà protagonisti se finalmente faremo la nostra parte se finalmente l'Italia tornerà a fare l'Italia.